Gli studenti di una quarta dell'Istituto Floriani di Riva hanno aderito ad un concorso didattico che mette a confronto le scuole nella realizzazione di un'idea, un prodotto innovativo e rivoluzionario. Gli studenti della scuola rivana hanno inventato un oggetto nuovo, un tubicino che serve a preservare il cavo delle cuffiette dalle rotture alle quali siamo ormai tutti abituati. Il progetto è stato presentato questa mattina. Noi siamo la quarta CFM dell'Istituto Tecnico Floriani, siamo una classe composta da 15 studenti che hanno partecipato a questo progetto, caso di studio, di JIA Italia. Consiste nella creazione di una start-up, di una vera e propria impresa che dobbiamo creare nel nostro ambiente scolastico. Noi quest'anno abbiamo deciso di iniziare questa attività con tubic, tubic è una guaina in gomma che permette di preservare l'utilità e la vita utile delle nostre cuffiette auricolari. Come è nato tubic? È un problema comune che nasce con l'utilizzo frequente delle cuffiette, con il movimento e con le torsioni frequenti del cavo che portano alla lesione del cavo auricolare. Questo abbiamo pensato di risolverlo mediante questa guaina, proprio tubic, che messa nel punto di contatto tra cavo e jack, permette di allungare la vita del nostro prodotto. In corso dell'anno abbiamo redatto tutti i documenti necessari, dato costitutivo a executive summary, tutte le carte quindi necessarie. Abbiamo diviso le azioni della nostra società, abbiamo all'incirca 25 azionisti. E adesso parteciperete a un concorso con questa invenzione? Certo, adesso il 19 maggio avremo questa competizione interregionale nel quale partecipano Lombardia, Trentino, Friuli e Veneto nel quale dovremmo sfidarci a vicenda e presentare il nostro prodotto e cercare di vincere magari per arrivare a nazionali in futuro. Dove si può acquistare tubic? Tubic inizialmente si può acquistare nella nostra classe, in corda CFM del nostro istituto. Per il prossimo anno abbiamo pensato di procurarci un e-commerce. Stiamo già elaborando un nostro programma, abbiamo già un nostro sito nel quale in futuro e adesso ci stanno già provando a fare, di creare un e-commerce proprio vero e proprio su internet. Stiamo già provando a fare, di creare un e-commerce.